benvenuti a calciatore della domenica la rubrica dove insieme scopriamo i migliori calciatori di giornata in serie a ma non solo al solito vi chiedo di lasciare un like a questo video e molto presto vi prometto che vi porterò una nuova rubrica ma andiamo subito a noi andiamo subito a scoprire i cinque protagonisti della diciassettesima giornata di serie a vi ricordo che ne mancano solamente due alla fine del girone di andata il primo calciatore protagonista di giornata marcello brozovic nel big match tra inter e roma ci sono diversi protagonisti da akimi a lorenzo pellegrini ma il croato è straordinario in mezzo al campo e serve due assist vincenti il secondo calciatore protagonista di giornata è nicola kalinic un altro croato l'attaccante dell'elas verona trova il primo gol con la maglia del verona un verona che continua a salire in classifica il gol di kalinic vale la vittoria sul crotone per 2 a 1 il terzo protagonista di giornata è vlaovic la fiorentina ritorna a vincere in casa dopo due mesi la cura cesare brandelli inizia a funzionare soprattutto per l'attaccante serbo vlaovic trova il sesto gol in questo campionato un gol che vale la vittoria contro il cagliari il quarto calciatore protagonista di giornata è danilo sta giocando la miglior stagione in bianconero il brasiliano l'anno scorso i tifosi juventini lo possono paragonare a marco motta quest'anno addirittura a lilian turam il brasiliano contro il sassuolo è straordinario fa gol un gol bellissimo tra l'altro e poi serve l'assist del definitivo 3 a 1 che cristiano ronaldo mette a segno il quinto calciatore protagonista di giornata josip ilicic a benevento il terreno è bagnato a benevento piove addirotto ilicic tocca 92 palloni che dico tocca li è a carezza fa un gol un palo ed un assist vedere josip ilicic è una delle cose più belle al mondo come al solito ragazzi è difficile ma bisogna scegliere tra questi cinque calciatori protagonisti il calciatore della domenica in questa diciassettesima giornata di serie a e josip ilicic adesso come al solito uno sguardo oltre manica al calcio inglese la premier league è ferma si è giocata la fk e nel weekend grande notizia grande clamore ha fatto la sfida di fk tra tottenham e marine una squadra addirittura di ottava lega inglese un po' se è come se un po' il milan o la juve affrontasse una squadra di prima categoria più o meno qui in italia adesso concludiamo come al solito con il col da vedere rivedere della domenica sapete il mio debole per leo messi in questa giornata di liga l'argentino ha messo a segno un gol su punizione che sarà mai direte voi ma andatelo a vedere andate a vedere principalmente gli altri calciatori gli 11 calciatori rivali gli 11 calciatori del granata che attivamente e passivamente cercano di contrastare leo messi su quel calcio di punizione 7 in barriera 2 a marcare due uomini 1 sotto la barriera ad evitare che leo messi tiri raso terra ed il portiere 1 contro 11 leo messi fa gol comunque se non l'avete visto correte a farlo al solito ragazzi vi ringrazio continuate a seguirmi ci vediamo martedì al prossimo calciatore della domenica